Come Monkey Duo abbiamo partecipato a questa edizione di RBM 2021 credendo come partner di poter partecipare a un evento che mettesse insieme problematiche e tematiche legate al mondo del retailing nel quale operiamo da oltre 15 anni. Le tematiche affrontate sono state di estremo interesse perché abbiamo raccolto spunti di tecnici e di professionisti e di fruitori dei servizi legati al mondo retail che sono sicuramente utili per identificare quelle che sono le prospettive che il settore si appresta ad affrontare. La seconda parte della giornata che ha visto testimonianze di professionisti e operatori del settore sia lato cliente che lato fornitori è stato un dibattito molto vivo e con degli spunti critici che saranno sicuramente motivo di riflessioni nei prossimi giorni per definire quelli che sono gli sviluppi della nostra azienda e del mondo in generale legato al retail. Come azienda crediamo nel valore della collaborazione con altre eccellenze a noi coerenti e complementari con le quali pensiamo di poter collaborare in modo positivo nel futuro.